Ci sono delle soluzioni oggi in Italia, noi dobbiamo appunto ci arriviamo a dare il nostro punto, abbiamo dei programmi che alla fine le cose di fondo poi si sorvino più di tanto, cioè può poter dire che ognuno usa in campagna elettorale quello che può, però alla fine insomma nessuno lo sta insegnando, tranne Grillo dice basta con l'Europa, basta con le regole, alla fine il PD dice che bisogna tenere fieta di impegni europei, Mario Monti ne fa una bandiera del suo schieramento, quello degli impegni europei e lo stesso PDL se da un lato c'ha un Berlusconi arrebbante che racconta gli italiani meno gas e meno impegni e dall'altra poi le stesse istituzionali, insomma io ricordo che l'accordo dell'Europa l'ha firmato il governo Berlusconi prima ancora è arrivato il mondo, ecco. Allora ci sono delle cose che si possono fare oggi, delle proposte che si possono portare avanti o ormai siamo dentro un tunnel dal quale è difficile uscire? Dunque noi nel libro in realtà delle proposte le facciamo, dopo aver raccontato perché questo meccanismo monetario non funziona e anzi leva contro la nostra economia facciamo delle proposte. Allora una proposta che in realtà già esiste è quella della Ciparano Scec di Muri, penso che sia meglio se ne parla Paoletti perché lui è il fondatore. L'altra proposta è quella di mettersi d'accordo con gli altri paesi della periferia, perché insomma noi siamo dentro questa Europa e purtroppo questa è una realtà che stanno qua, noi non possiamo dire. L'idea di abbandonare l'Europa non è partibile, però l'idea di rinegoziare all'interno dell'Europa la nostra posizione, questo sicuramente è partibile. Quindi quello che noi proponiamo è la costituzione di un euro due velocità, quindi un euro in serie A e un euro in serie B. Allora l'euro in serie B sarebbe l'euro che avrebbe usato per i paesi della periferia, quindi tutti quanti insieme e questo darebbe a questi paesi un attimo di respiro in termini proprio di competitività all'interno, non solamente all'interno dell'Europa, ma su mercato internazionale. Io vi dico solamente due dati che secondo me sono significativi. Da metà novembre fino ad oggi l'euro si è rivalutato nei confronti dell'Orienne del 22%. Da luglio, cioè da quando Draghi ha fatto la famosa dichiarazione dicendo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare l'euro, l'euro nei confronti dell'Orienne si è rivalutato del 12%. Allora, che cosa significa? Significa che nonostante ci troviamo in contrazione, noi ma anche i greci, insomma la Grecia sta a meno 7 del PIL, eppure praticamente ha avuto una rivalutazione nei confronti dell'Orienne del 22%. È chiaro che queste sono delle grandissime distorsioni economiche, pericolosissime, pericolosissime perché? Perché comportano un'ulteriore contrazione economica, ma anche degli squilibri che nel lungo periodo nonostante. Scusami, quello che stai dicendo per capirci tutti è che un euro forte rispetto a un dollaro che invece si indebolisce, la moneta giapponese anche che si indebolisce, la moneta giapponese si indebolisce, ma sì che noi ci possiamo anche vantare per avere una moneta forte, ma alla fine non la siamo fregati sostanzialmente. Sì, ma la moneta forte non la vuole nessuno, infatti gli americani fanno di tutto per mantenere il dollaro, e i giapponesi sono felicissimi che finalmente sono riusciti ad intercorrere l'Orienne. Allora, l'idea della moneta forte fa parte di quella ritorica che è stata introdotta in Italia negli anni 90 da chi è riuscito a vendere l'euro, l'idea dell'euro sulla base del... I panchi della moneta forte. Ma anche le loro staffette, perché insomma parliamoci che erano i prodi, che cosa si ha detto? Ah, il tremendo, tremendo, la svalutazione, la svalutazione, ma come i giapponesi sono super felici e finalmente hanno svalutato il 22%, un paese che dipende dall'esportazione. Guardate che il Giappone non produce petrolio, importa tutta quanta la sua energia, c'è avuto due esplosioni a popoliano per cui tutto il nucleare al momento non si viene utilizzato, quindi è un paese molto simile al nostro. Un paese vecchio, come vedete moltissimo. Assolutamente, questi sono 15, se voi guardate il Nikkei è salito, perché l'evoluzione di borsa è salito negli ultimi due mesi, perché tutte le società giapponesi hanno rinvito le previsioni di guadagno e di profitti per il 2013, ti chiedo che se la moneta scende il 22% nei confronti dell'euro è una macchia, ragazzi, è una macchia. Noi questo ancora non abbiamo vinto, non c'è un politico italiano che scrive questa cosa. Appunto, io su questo che rispetto alle serie di reti, io che sono attivato la soluzione 24 di Taro del Benedetti che diceva che questa del Giappone è una svolta storica di parte della nostra votaria, quindi è una cosa che noi sottovalutiamo ma che cambierà la nostra vita anche questa. Ma quella del Giappone è un avvenimento evocale, il Giappone per 20 anni si è trovato nella situazione in cui noi ci troviamo oggi, ci ha messo 20 anni ad uscire ed è riuscito, sta uscendo semplicemente perché l'euro è entrato in quella situazione, perché la moneta che il finanziario adesso usa come usava il yen è diventata l'euro e noi ci troviamo esattamente a questa situazione, contrazione economica e apprezzamento della moneta, vene che anni con il suo Giappone. Allora questo lo vogliamo dire o no? Ma in Italia è interessante che il Benedetti dal deletro però non ha detto che adesso siamo noi che nella drappola della stupidità. Erode Benedetti non ha detto che ha distrutto tutta l'industria di Stato? No, no, ma lo dicevo in passato, lo citavo per quello perché non stavo citando un economista che ha idee latiche.